Allora Valerio, hai segnato tu oggi ma è stata in generale una buona prova di squadra al di là del risultato? Sì, al di là del risultato che poco importava, comunque abbiamo fatto un buon test, una buona partita a livello di squadra e peccato appunto per la vittoria ma non ci interessava insomma il risultato oggi. Il mister è stato contento di noi e quindi buono così. Sei appena arrivato ma è come se tu fossi qui già da tanto, hai anche tu questa impressione di essere ti amalgamato molto bene in questo gruppo? Sì, mi trovo molto bene, mi hanno accolto anche benissimo e li ringrazio i compagni. Quindi procediamo così, abbiamo fatto due partite di campionato buonissime e adesso c'è questa sosta, recuperiamo e poi si riprende la grande. Si può dire che oggi vi siete tenuti qualche gol in servo magari per il Milan? Oggi ce ne siamo divorati parecchi ecco però stiamo caricando durante la settimana tanto e quindi è anche normale che magari fisicamente ci manca un po' di lucidità però l'importante è arrivare alla prossima settimana carichi e pronti per il Milan. Nella ripresa c'è stato un cambio tattico con te alle spalle di Stepinski e Pazzini. Ti chiedo se secondo te i due possono giocare insieme e come per te dare la possibilità di dare questi palloni in profondità a due attaccanti di sicuro valore appunto come Giampaolo e Marcius? Questo lo deciderà il mister, insomma il modulo, però poco importa perché eravamo sempre tre attaccanti io devo girare alle spalle loro ma attaccare anche la profondità, quello che mi aveva chiesto il mister. Ci troviamo molto bene ma ci troviamo bene anche con tutti gli altri, Tutino, Zaccani che mi ha fatto un ottimo assist quindi ci troviamo tutti alla grande gli attaccanti. Si parlava prima con un tifoso, avete ottenuto intanto il 10% di quello che deve essere il bottino finale perché più o meno la media a Salvezza si parla di 40 punti. Adesso è ancora presto, ripeto abbiamo fatto due ottime partite, abbiamo conquistato bei punti però è iniziato da due settimane, due partite del campionato quindi pensiamo a partita dopo partita prendere più punti possibili dove non si può vincere, non si deve perdere e arriviamo all'obiettivo finale comune che è la Salvezza. E l'acqua più importante è che fino a gennaio è questo il gruppo, finalmente si è chiuso il calciomarcato? Sì, finalmente sì, siamo noi, siamo questi e abbiamo tutti lo stesso obiettivo da chi gioca poco a chi gioca di più, l'importante è l'obiettivo comune.